Onorevole Cabras, qual è la sua valutazione al cinquantesimo giorno di guerra? Visto che lei è venuto da noi anche diverse volte in queste settimane e la sua posizione primaria è quella che è stata una sciagura mandare le armi agli ucraini perché si difendessero. Noi vediamo che l'incremento della pressione del riarmo in questo momento sta creando le condizioni per un inaspiramento della guerra senza che essa si risolva. Ho udito prima un termine che in effetti è molto adeguato per definire la situazione che si sta determinando cioè complito congelato, il rischio che si creino degli equilibri precari in Ucraina e duraturi. E in effetti tutta la vicenda post-sovietica, cioè dalla fine dell'URSS nel 1991 è una serie di conflitti congelati che ora si stanno via via nel corso degli anni scongelando nel senso che diventano guerre calde. Bisogna pensare a una sistemazione complessiva degli equilibri post-sovietici il che significa che l'Europa deve pensare in questo momento a una pace europea che riveda anche qualche confine per garantire la pace a livello continentale. Cioè la pace europea è un unicum, non può essere separata e non ci può essere l'illusione che ci sia una soluzione militare a scapito dell'altro grande soggetto. Non lo può fare la Russia e non lo possiamo fare noi. Quindi, anche se è controintuitivo, quello che bisognerebbe pensare adesso è un accordo di pace da immaginare nei suoi contorni essenziali. Cioè un equilibrio europeo nuovo in cui tutti si sentano più sicuri. Dove è necessario si fanno territori neutrali, dove è necessario si fa disarmo anziché riarmo. Tra l'altro ci sono molti precedenti storici di questo tipo in cui c'è un disarmo bilanciato che garantisce tutti.